Poi ho detto no. Di cosa sapeva? Sapeva di... niente. Non so che era di niente. Non mi sistemare il cuscinetto qua dietro. Benedita. Eh, Benedita. Benedita chi? Benedita. Ti sente Marco? Lo so, lo so, lo so. User join your channel, join your channel. A te, a te. Eh, a me. Certo. Ho smutato le mutande e poi erano croccanti. Io sono stanco oggi, Marco. Anche io un po'. Perché io stanotte sono andato a letto alle 4. Perché si stronza? Eh, ma perché... no, ho scaricato Assassin's Creed che l'ho comprato tre volte. L'ho comprato. Ma come? L'ho comprato su Uplay, ma non mi compareva in libreria e ho chiesto un rimborso. Allora l'ho comprato su Epic Games e l'ho messo a scaricare. Grazie, Pospin Industri! 49 mesi. L'ho comprato quindi su Epic Games. Però ho visto che lo sbloccavano alle 15, alle 17 di pomeriggio. Allora l'ho chiesto il rimborso di nuovo anche lì e l'ho ricomprato su Uplay, che non mi compareva in libreria però. E quindi ho aspettato, fino praticamente alle 2 mi è comparso in libreria e ho iniziato a giocare. Madonna. Fino alle 4, tanto stamattina la live la faceva Marco, chi se ne frega, ma mi sono svegliato alle 10 e mezza comunque, quindi vaffanculo e sono un cadavere. Io ti dico, ho sonnino. Però... Cos'è però? Ho giocato lo stesso oggi pomeriggio, ho fatto qualche tesoro. Mi sono messo a fare qualche tesoro che mi diverto molto a farli, poi sono veloci. Dai! Allora... Mi stia sbadigliando. Ma infatti ho detto che ho sonnino, non è che ho detto... Sono pimpante! Ragazzi, Zaluk ha cambiato il modulo. Che bastardo, Zaluk. Sempre il solito stronzo. Ragazzi, gioca bene, giocavo bene e poi si cambia subito. Dovrei giocare male. In realtà cambio solo io. Eccoci! Non importa, non importa. No, ma l'abbiamo già provato con 2cc, non è che andava bene. Cioè... Siamo finiti, siamo. È quello base questo qui, proprio. Proviamo. Siamo finiti! Chi? Ehi, sport. Ciao, belli! Ma a parte che il nostro stemma di questa maglia che stiamo usando qua è un'agenzia immobiliare, comunque, sì. Ah, come no? Puoi mettere l'esterno destro? Ma che la marca è la putrefatta della gioia, moro putrefatto e basta. Io ero molto contento. Ma però forse conviene che mi metto di qua e se lo mancio un po'. Abbiamo fatto una bella live, come si deve, ci hanno divertiti. Ma scusate, non volevo uccidervi. Sento meglio? Funziono? Sì, sì, è normale che avete il cammonero, ragazzi. Allora, io sono già dentro, eh. Chi è che manca? E sono in più. Sì, sei l'ultimo. È vero, cazzo, è che non mi si vedeva. È vero che siamo... Siete mimetizzati con gli assenti. Sì, sì, sono un camale fronte. Eh, che turista, ragazzi. Spero convinto. No, l'ho già messo, l'ho già messo. Tocca già. Funziona tutto? Questo è un effetto Doppler, quasi. Grazie Stefano. Tripler. Tripler, sì. Amici, l'altra volta è andata talmente bene che non può risuccedere. Quindi adesso... No, infatti mi sarà una merda totale. Proprio un pe statistica, secondo me. Ok, allora, ricordiamoci. Allora, si attacca con che tasto? Con R, B, Psylon? Sì. Io stavo per correre con l'analogico sinistro. Gollo. Mamma mia, ragazzi. Ma porca miseria, sto bevendo però. Come si schiva? Come si schiva? È tornato il giveaway di Stunt Gaming, ragazzi. Oh my god, Marco. Partecipate al giveaway. E certo, infatti Vector è già pronto. Partecipate in tanti che potete vincere tante cose belle. Tanto non vi costa nulla e potete vincere un gioco che volete voi. Io sono caghetta un po' più liquida. Che fa? Cosa fa Amrabat? No, i tasti di Springfield sono veramente da stronzi, eh. Caratterizzata, cara... FK, fotte! Solo FK, vero? No, è solo From Keyboard. Che cosa? Non credo di farcela. Moro! Tranquillo, ha dato il vantaggio. Sì, ma il giallo è lì, eh. No, no, non è vero. E tu, il giallo? Dietro, dietro, ragione. Quanti è? Bello! Non ce l'aspettavano, eh. Ah, 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 Corvo! Vieni qui! Abbracciami, Quascone! Grazie, sinestri! Eh? Sinister... No, 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 ti ho... Ti ho calcolato. Sinister Jerry! Ma che cazzo ti faccio sempre, Marco? Sinistri, avevo letto. Il ministro sinistro. Volterini. Perché mi è andato indietro? Vabbè, fallo, comunque. Ma rossi e giallo, ma solo per il tuo colore, eh. Per fortuna, ancora. Ma io, voi non mi credete? Era antisportivo quel fallo, ma che vuol dire? Pozzi! Che solid! Un arriete è arrivato. Evviva! L'olio d'olinea. Ah, perciò... Pessala! Voglio Plinio nel mio letto. E... Che fa? La gara c'è al ruolo! Ah, ma che... Mi rimbalzano i piedi! La gara salsebine! Grazie PianoCottura! Per i tuoi ottimi servizi. C'era uno che rimanghi, Dottor. Ah, 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 ah. No, 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 no. Mi si è procato tutto, vince, vince, vince. Ok, ce l'avevo io ancora? 7-7, 7-4. Oh my goddi! Voglio una maglietta con scritto oh my goddi, comunque. Eh, ma c'ha i diritti, Frank Mattano. Chi se ne frega, Marco? Non so mica originali, noi. E ne sono più di... Eh? Eh? Vai? Ok. L'ha detto, l'ha detto che si vince Easy, Davide. È vero, è diventato religio l'Ape Train. Perché? È brutto. Perché così non ti acceca? Dov'è che era una luce intermittenza? Non credo, arrivi la palla. Intermedia. Appoggiati dietro se... Ho fatto lui, tranquillo. E' il bastardo! E' che ci ha messo mezz'ora. E quello lì si è fermato e mi ha inchiulato. Questo è sempre un bravo. Basta il... Yaya Tourette. Pallone invitante. Te l'hai? Ok. Mi si sta per spegnere il televisore. Fermalo. Andiamo con... Ok. Oh no. A campo a disposizione. Ahia. Eh, rigore, ragazzi. Cazzo di righezza, eh. Ma dovremmo regalato questo. Per cosa non si sa mai rigore. Ogni tanto anche noi abbiamo delle situazioni che no. Perché secondo me lui ha starnutito e per il covid non si può. Sì. Ha commesso un fallo molto lungo. Marco è tutto nelle tue maniche, eh? Eh, che non sono bravo con i rigori. Ci provo, ragazzi. Bravo! Madonna! Che paura! Che paura! Bravo Marco, non come Ibra. Che anche lui ha tirato una scanna ma era proprio fuori. Volevo già a Wendel mio. Vai, cross del fratello Tremone. Ah. Ui. Sì, fratello Tremone, è mica male. Si va a Berlino, bello. Chifonissile, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, schifo. Come hai risicato coi voti oggi, però, eh. Sanpei. Quattro assist e goal sono a 7,9. Ma io 7,4 che ho segnato. Oh, oh, oh. Oh, sportamero. Palleggio. Ma dai, non l'ho mai fatto, segnare. Poteva avere delle gambe un po' più rapide, Jovetich. Purtroppo ce lo meritiamo. Bravo. E' in fuorigioco, mi sa, Kornolo. E' un bello. E' un bello, non è un bello, non è un bello. A fil di fallo, proprio, eh. A pelo, pelo, dai, quasi così ci arrivavi. Eccomi in mezzo. Anche dietro. Ostriex, Pantera. Bravo, Kornolo. Sì, va a Berlino, Beppe. Andiamo a Berlino, Beppe. No, non è la Roby nostra, è un altro Roby. Sempre educato e gentile, però. Sperato. Bravo, eh. Post-it. E torna alla difesa avversaria. Sono fuorigioco, ma questi fanno la tecnica della tattica. Kornolo. Che schifo, era per Korn. C'era per piacere i conosci. Cidi, ba ba ba. Bello. Bello. Bell'azione, bella azione. Milf. No, nilsbo. Milf. Grazie mille. Grazie dei Tramiss. I piedi lunghi. Bello. C'era ancora se volevi Mariolo Eh non ci stava a tirare No era buono Eeeh Jacker grazie Jacker Dove sono? Eccomi Infilo dentro Angola no niente È stato intercettato Questo passaggio purtroppo Eh arrivo eh Mette Paola in profondità Oh ciò che l'arbitro qui ci vede lungo con i ricori Eh anche troppo Fuori di 2-3 km ci vede A me da in game Sembra la maglia dell'Inter comunque Bravo la Mark Mamma mia Non ho la velocità di uno piccolino purtroppo Nagatomo Recupera la palla Intercettato Ingerbio E' vero Occhio all'avanzato Eh vabbè i nostri piedi No Di petto Calogero Oh mamma mia Bravo Vai Marco vai Marco vai Marco C'è capo per andare attenzione Vado Occhio qui al contropiede Sì Ah Soprattutto Stronzi Dai qui siamo combattivi oggi eh Non vi state emozionando in chat Fate una Io stavo non ce ne stanno Una ho la voglio Una ho ho Sotto Stare Non può sbagliare No Oh my god Come cazzo è passato Non lo ha fatto Non è solo lui Infatti nel suo giocatore non hanno le ginocchia Aborno trasparente Abort 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 Amici questi ci ha recuperato due gole E siamo solo alla fine del primo tempo Vabbè ma quello è normale di quest'anno eh I gol numerosi No mi si è bloccato il gioco Ahia ti ha dato un pulino nel primo Aspetta aspetta Marco aspetta Mi faccio vedere qua D'altro ha invertito me Moro Non so perché Sempre Dai l'avevo capito Vabbè vabbè Cambio ogni volta personaggio è difficile affezionarsi E' così dall'inizio ragazzi Solo la prima La prima live L'avevo con i capelli rosa Mi sono immaginato queste tribune Che parte la ola Poi a un certo punto si interrompe il motto E tutti che si guardano intorno sudando Moncas moncas Si Ma noi non ci arrendiamo ragazzi Solo se mi viene sonno Non ci arrendiamo in quel solo caso Che vuol dire Cambioni del proprio Sempre Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo Prima frazione che si è chiuda sul risultato di parità Ah vado E va va E va Marco Ma vai Lei è 16 addosso E' una tua formazione considerata super di massa Allergia Di wallere Pizar Oh mio dio C'è arrivare Beh Mi siete invertiti Eh no È l'ultimo E vai via Daniela Marco Ancora? Ah vabbè Cazzona Cazzona Cazzo se mi ha seguito Ancora lì Vabbè Peppe Oh mio dio Quanto caschi eh Non è volta No no Ma quello era per spostarmi una palla e corsare Ma potevi postarla dietro Ormai Eri a terra con l'uomo piazzato davanti Oh Bravo Mauro sono io a sinistra comunque Che l'hai Eh maestro Stru Attenzione Tiro dritto Tiro Eh devi muovere la levetta Eh ma quello si fa Non è che Ti ho messo davanti alla faccia Cazzo se mi ha aperto Cazzo se mi ha tirato un po' a regalarle Non scappare Non posso muovere indietro Non me lo tiro nella mia polpa Cazzo io Vabbè non è che sono scappato Sono in due comunque davanti Non l'avrei preso lo stesso Quando così di testa Tendenzialmente tendendo agli incontro Perché di testa non la Tira da lunghissimo Marco Sto correndo veramente tanto io Anch'io E questo era falleio io Guarda Mauro sei a destra È bello Ormai ero qua Ha avuto fuori gioco Ottimi suoi passaggi oggi Attenzione Facciamo la muraglia cinese Anche quella giapponese Tutte quelle orientali Per favore Recuperare la muraglia cinese Devi darla Bravo Aspetta Corna Aspetta Eh con la mano fortissimo L'ha preso Sto corruto Oh 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 Pelle Eh no Nel senso Capito La lettura del difensore È uno scherzo È uno scherzole Mi ha tolto il pallo qualcuno Ma non so Mi avvicino Di testa se vuoi Madonna Perché l'hai fatto Ma non dovevi frenare Perché hai frenato Ma come te l'ha raccolta Perché ha frenato così tanto Io ho stato detto Ho tolto la mano dall'analogico No ma potevi farmi il cross di prima Che la prendevo di testa Quale Ok Ok Bravo massimo Decimo Meridionale Un altro ottimo passaggio Cerca la sovrapposizione Pippo Ragazzi Non è una cornata La cornata è un'altra cosa Va bene Ma perché L'ha dato Distrante sull'esterno L'ha dato interna Poi Quest'anno Ancora meno Di quello dell'anno scorso Capisco i passaggi E' stata una cagata Non capisco le prospezioni Via Ok Bravo Minchia mi sta scattando tutto Che stronzo Porvo Naturalmente Ho visto Mi sto arrivando dietro di te Però Vado Occhio al tocco Come il mio Fucilata Eh si era stanco Però buona No potevo In realtà potevo accelerare Ma avevo paura di portarmela fuori Non è uno che si ha Rende Occhio al tocco in mezzo Fott Riputamela dentro Liezer Anche fuori Ah Porca bestia Oh ma come Adesso E' finito Il tempo Dello piede Eh stanno difendendo bene Tourette Via 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 Grande Pancaro Che non era Non era Pancaro Adesso le capelli grigi Pum Pompelmo Rosè Dai ma minchia Che buono Il pompelmo rosa Cisso Bravo Con lo zuccherino Ma prendo No ce la prendo Ma che bastard E lui è altissimo Ma non era neanche quello Che stavo marcando io Tra l'altro Eh ma comunque Teoricamente Di teoria C'è Che ti capita Quelli lì Perché guarda Quanto è Eh ma non potevo Proprio fisicamente Ero dietro di due uomini Dai Dai Buono Buono Sì Va bene Dallo pure Il corno Buona Vai Bello Ti ho toccato No ma Non ero proprio in posizione ideale Ho tirato perché mi stava arrivando Il difensore Comunque delle volte escono delle bombe Stavolta non è mai uscito un cazzo E la passa ma non abbastanza Fossi stato dritto Fossi stato dritto L'avrebbe fatto E non è fallo Ma scusami Però quello era rigore prima Mi raccomando Ma gli ha ucciso la mamma Per quello non è fallo Perché non era in campo la mamma Ah sarà per quello Scivolata morbida Era sciabolata ma facciamo fine Tutto molto bello Gentili signore e signori Da Bruna Pizzoli Pio cardiale Buonasera Grazie E lesi Ollo No eh Guarda che passano Guarda Grazie lesi Non va via sta palco Grazie lesi Sempre davanti Ollo penso sia benvenuto Ma la presa comunque lui Farà un Lorenzo E la ballerina del Wallerat Un'inversione di script in questo partito Non c'è nessuno Aspetta no Non c'è nessuno E forse non c'è nessuno E c'era Korn E' arrivato Korn Ma mamma mia quanto era disperato Il mio giocatore Per questa cosa Sono demoralizzato Questa partita Ma siamo riusciti a fare Quello che dovevamo fare Ho traverso Ho traverso Dai Mi è salita la forza Mi è salita la forza Avevo detto che si vinceva easy Eh infatti Ah le mie ossa Sono pelviti Ho ottenuto dei punti Ma li metterò dopo Perché non me ne frega niente Mauro tu sei mancino destro E non me lo chiedo ogni volta Non me lo ricordo Ho capito Dovrai sapere anche Che piede preferisci Eh ma l'avevo cambiato Mi sa Ma come Madia World Multiplayer ha scritto un articolo Ha sbagliato a scrivere Media World E ha scritto Madia World L'hanno mandato E nel gruppo di Telegram ragazzi Per chi è sub lo può guardare Eh amicia Quanto pare Anzi se volete un Xbox Una Playstation Lo procuro E tutto intorno a te È vero Bravo vecchia Che ti ricordi queste cose Che maglia ragazzi Anni 80 Mi piace Mi piace Mi piace molto Questa maglia Non abbiamo mai avuto Una roba del genere In Pro Club Cioè così Stravagante Con le adoro alla frutta Eh scusa Mi era allontanato un attimo Ma è allontanato In sacristia Mamma mia Ma c'è un tiro incredibile Questo signore Come in sacristia Mi sono perso L'arresto del discorso Ho sentito solo sacristia Come ci siamo arrivati L'arbitro mi confonde Bello Oh Mi faccio vedere qui È un po' più indietro Non sono io Ah scusa Ah ero io Non so perché Ero convinto che fosse Eh beh Questo è quasi un gol Ha impedito una rete sicura L'attaccante Era già pronta a esultare Ok Buono Ok 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 No No Per po' L'uomo Bravo Eh 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 ma perché Ho suonato per intercettabile Ma invece Bravo Oh così Costruzione Mi piace Mi leggo Certo Bello Bello Faccio vedere Sono qua Che zappo Che gol del pippo Che Bravo Buona buona Hai tirato Di una zona Ma mi è arrivato dentro Tra l'altro Era buggatissima l'animazione Perché non è colpito niente In realtà No Ci sarà tempo per festeggiare Ed ecco dunque Penso che l'animazione Dovesse essere Piede terra Invece non t'ha fatto vedere niente L'animazione Ne vado L'ho fatto immediatamente L'ho fatto L'ho fatto veramente subito È che Così Provesciamento di medaglia Ah peccato Cazzo Dovevo tornare Ben bannuto A zombie Mi rende Allargati pure corn Cioè non intercetto Un mazzo Eh prima eri intercettato Hai stato bravo Prima Non c'è fretta Non c'è fretta Ero lì Bastava allungare una gambetta C'entra l'urezza In realtà mi ha memorizzato il tasto Dovevo spazzate No crossa Fuori gioco Fuori gioco Mezz'ora Era fuori dal campo È rimbalzato nella faccia Di quello in mezzo all'area Sì Mi è sembrato di avere visto Somma mia Dai cazzi Moro torna a destra Torna a destra Moro torna a destra Che occupi Sto tornando alla destra Bravo Occhio Occhio Ma porca puttana Eh Piatone Bravo Ok guarda Marco Ok Arrivo Fermati Bravo Corvia Qua 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 Come le papere No perché così È morto è morto No come è andato arrivato a Pareto Potremmo tenereci il pallo Eh Ranghe Grazie Ranghe Grazie a dieci mesi No Eh Ah ci ho provato Cazzo Pensavo che il primo passaggio di Marco fosse In realtà era per te Cor Eh sì Eh quello l'ho visto Ho provato a dartela di prima L'ha dato un po' moscetto E quindi poi è arrivato a Corvo Palla rubata Questa è una Scatramatta eh L'arbitro Non è Comunque giocare a Ultimate Team Così tanto Mi sta veramente aiutando un sacco A me anche nel Pro Club Cosa sta succedendo? Eh non capivo Nei movimenti Nei passaggi Mi sta veramente aiutando tantissimo Ti vede Ti vede Cioè mi lo sento proprio che gioco meglio Certo certo Un po' regge Vabbè Eh non so se arrivo Sto sprintando più che posso Liezer Rientra Bravo bravo Guardami Ho fatto più che potevo Vabbè 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 Il calcio ad Asimov Qua E va bene Va bene lo stesso Va bene lo stesso C'è preparato Marco Per un punto Sì 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 Poi se ne è andato via E è arrivato a modo Va bene Va bene Ottimo Ottimo Sono una carticollata Quello velo un cario Si Buona fattura Merita di essere Rivisto Kerzakoff Ah mamma mia È successo Ma Luke è cresciato ragazzi Oh mio dio Ma adesso Questa era una cacata Vado Attenzione Era quando andasse a Marco Sembrava A pochi passi da lui Andiamo a porto a campo Matteo Per avere Novità sull'infortunio Problema Sì Ricordiamoci che Dobbiamo chiamare E lui mi si è crashata La connessione Via 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 Cos'è Non so È un passaggio Lungo 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 No non era No È Luke Adesso Sì Ah che comunque Oggi le connessioni Oh porca puttana Sono criminali Ma l'ha ucciso Sono il capitano Occhio all'eventuale schema Io sono in mezzo a due Double penetration Qui so io Fucking situation Eh ci ho provato ma Che legno Ma questo si chiama Messi Chiamatela E provare a scavalicare il potere Con il tocco sotto Ma falla chiamare gli attaccanti In modo che la gente Eh sì 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 Diceva loro Vado Nagatomo Prova a servire profondo il compagno E allora È già infortunato Non ero neanche fatto No 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 Perché non ha dato neanche vantaggio In sé che è loro Eh ma la sdumore Eh sì Perché t'ha spinto a te Ti sei finito sul pallone Eh mi ha spinto Quindi fallo Eh no Può fallo in quel modo lì In teoria no 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 non lo puoi fare nel calcio Cioè per Chiaro dipende come poi Perché se lo fai in maniera Eh mi ha fatto perdere la palla Eh ma se ti Se ti Pressa da dietro Fino a spingerti contro il pallone Lo può fare Cioè non ti fa Se non ti fa un fallo grave Che ti spinge forte e forte Eh ma gli ha fatto la gamba giù Grazie Deadu Grazie mille Eh ma qua con i botti Oh Io c'ho ancora il kit medikit Guarda che mi sgrida Che mi dice Non devi essere qua Vattene Aia che botti ragazzi Lascio vedere in qualche modo Guarda che Marco Bravi Bravi però Era così wow E poi no Ma che è successo Bravissimo Eh Vattene Non lo aspettavo Eh l'ho Fatto il dribbling L'ho crossata E zar No No E dopo la vita Oh Tu Tosta è sta partita Molto Soprattutto adesso Che non c'è nessuno dietro Ci sono i bot assassini Che sfondano Sta difendendo bene il bot Fino adesso Eh ma vedrai che qualche cappellata Viene fuori Eh due difese Abbiamo rischiato due Due difese Denunce per omicidio Un gran bel poso No mi si è rotto anche a me Eh no Anche More è crashato Ma Vabbè dai meglio così Andiamo Ma sai che oggi Anche con Apex A me con Discord Non va più niente Discord sta funzionando di merda Ogni tot minuti Non senti più niente Esatto A me da ieri Quello fa Sì anche a me Grazie coppie Grazie mille Guardalo Ferma ma non c'è Non vogliono fare vincere Anche oggi proprio Apex mi è crashato In una partita Che stavano facendo I buchi dei culitanti Il fatto è che Discord È problematica Con la cosa Perché Eh non senti più niente Mi spiegano i boss A un certo punto Non sento più niente È un problema Perché poi loro partono Io non so niente Non voglio Fermati Ok Tranquillo bro Vai corn Taglia Vado io Vado io corn Che corvo Corvo Ah C'era More che mi stava placando Anche se non era lui Ah l'ha deviata lui scusa No 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 Ha preso la mia gamba Che poi l'ha tirata a caso Il pronostico della vicina Ha tirato la gamba Sì una volta si tirava il dito Adesso Per quelle grosse Come il codice Per ritrovare La team Per ritrovare il pin Sì È team Soprattutto chi ha team Sì non sente più niente Eh io ho team Infatti è successo anche a me Non c'è È da solo Sì Può crossare da lì Genoa Non ho neanche fatto fallo Ma ho buttato fuori così Io non ci sto Sì Può servire un compagno Tanto vado a vedere su Eh Il twitter Se c'è qualche cosa che dicono Di Non c'è qualche cosa che c'è Non c'è Io non credo di avermi fatto una difesa Così confusa In tutta la mia vita Guarda Guarda Sì guarda Sbravo Cos'era? È una cheerleader Marco ma che Siamo pazzi Eh ma non potevo più far niente Eh lo so Una due tre poi Ma non ci ho contato Non la chiamo 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 Non è gratis No è il server credo Eh Vado Mi ripropongo È morto ufficialmente Si vedeva già che sarebbe deciduto Mi fa capire che non tollererà altre scorrettezze Dovrà cercare di non commettere altri falli Occhio al tocco verticale Appoggiamela anche Attenzione pericolo Non sono io Però ho segnato il botto di moro Ottimo 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 E va Anch'io gli ho detto di tirare In margine di sicurezza Tamzabu Ragazzi Partita che assume ormai una fisiologia molto precisa Ragazzi Fantastica questa situazione Un spot gioca meglio di moro Ma che dite Prova ad aprire il campo in ampiezza Beh effettivamente ha fatto un buon movimento In zin zin Sanche roba Guarda l'Edgar Certo Un attimo nel nostro discord Puchi di culo Vado in mezzo Nooo Pento Sono stanco Dentro lì Fa meno male che mi ha ripristinato Il pre-puzzo Guarda qualche strada Fate vedere Bravo Sbucca la Eh che falle Per rigore Ah perfetto Via Abby Calcio di sudore Prego Marco Ma io mi sento di Mi sento di giustamente Darlo a Fabri In realtà Ma vabbè Non sono buono Però ci provo Stai in culo Sul 3-0 Sì Mi sento di cedere Questo onore Bello Buona buona Ma non gli ho detto Di buttarsi Per regulazione Ah non lo so Beh qua si buttano tutti Dici 4-0 Da quando è uscito Moro Per favore Moro Ma Mi si era attaccato Non mi è azzaro troppo forte Palla in Fallo laterale Eh figurati Occhio al cross Palla rispinta Dal difensore E di quella La ricorre tantissimo In realtà Ah Non c'è arrivarsi Beh Mi fanno coglionella Non ho capito Bello Possibilità di godere No Eh Fuorigioco No Allungamela Ah pensavo fosse per te Ma guardate che pia Eh ma perché si Eravamo sovrapposti Effettivamente non si capiva ben Oh ma quanto manca Dieci minuti Che palle Mamma mia Miracolo di musso Grandissimo Entra sul pallone Specchio specchio Delle mie brame Ma quando è che ti trasformi In uno spacchio Alla viva il parroco Come si dice Io lo chiamo A col tiro di cutruzzo Lo chiamavamo noi Ho visto Lo squilibrio Delle due squadre in campo Ho fatto a rivedere Una prepunta Ho visto lì Io però Stempialo Ma che fa Si posiziona e basta E questa E questa come la prende Ma che schifezza Che ha tirato Ha visto lo svecce Marco vieni a marcare questo qua Sono dove ero io Ho fatto che poi Si crea veramente un'assemblea di carne E non so se riesco a prenderlo Prontanto non c'era nessuno Mi serva pure È finita? No Un minuto Finto sempre Più recupero Vero però Due minuti di recupero Finti Quando io Ah Ecco qual era il tuo piano Marco Vabbè Intanto è più indietro Poi Mi sono fermato Ho fermato tutti Tutto Vabbè Ragazzi ma c'è 10 Votti incredibili Senza aver fatto niente È finito? Eh sì Usciamo Tedi I bonus Andiamo anche se abbiamo punti Questo me lo sento mio Questo giocatore Mi piace Adesso la prossima patch Cambierà tutto L'odio poi A sto giocatore Mi sa che mi tocca Anche mettergli dei punti In difesa Mi sa Perché per conversare Dove gioco Eh ma quello è classico Anch'io tornavo sempre Con quel giocatore Ma io sono 0 Ma stiamo scherzando Ma dobbiamo uscire È vero Che schifo Che calor La canna Che carina Mi sono in partita Allora Io dobbiamo Tanto resistenza Perché E dai Contrasti Il giocatore Cira 7 modi Anzi Intercettazione Non so se Metterger Un punto in difesa Che sei capitano Ok Allora Allora Mi fido Allora Un punto In finalizzazione Che sei mai E uno Ragazzi Sono una bestia Una bestia Cioè i tiri Sono impressionanti Cioè giusto le precisioni Di punizione Che non l'ho alzato Perché tanto Non le sto battendo Di tiro Comunque No C'ho finalizzazione 86 87 Aspetta che vado a guardare bene Ma lo puoi vedere anche Dentro la lobby Vedi i stili di gioco Vedi il tiro Precisione testa 86 Potenza tiro 85 Distanza tiro 85 Tiri al volo 86 86 adesso tu Come overall Come overall 86 Mi sembra un po' eccessivo 84 Io ce l'ho 86 overall Io 85 Ma perché si vede che è alzato Ho 86 l'attaccante Io ad esempio Quando sale Ti sale L'overall Quando praticamente Occupi un'intera Colonna Cioè un intero Gruppo di skill Tipo Tiri Se fai un sacco Su tiri Ti sale talmente tanto Che ti sale di più Anche in più partite di te Sì non so quante ne hai fatte Adesso Ma ne ho fatte poche poche Però l'attaccante C'ero comunque l'86 Proprio per quello Perché ho tutto su tiro Anch'io Eccoci Chi Ma che è sta Mettengli la maglia di merda Per favore Lo voglio vedere Non si può fare È vero È che sto problema di merda Ma è possibile Confondiamo un sacco Porca di una puttana Ma è possibile Non devo cambiare io ragazzi Io lo premo Ma non c'è Ma no Luke dovrebbe cambiarlo Ma non gli cambia No ma lui la cambia Che da noi non lo Non lo fa vedere Esatto E noi non lo possiamo fare Ma si può fare Che c'è Sono tre anni Che c'è questo problema Tre anni E sono tre giochi diversi Guarda qua Io non so Veramente più Voglio Ci aiutiamo con Qua l'unica cosa È guardare il pallino E le tre Euro l'uno È rubato gli scartini Quello Non ho spaccato un cazzo Questi già Sì Sono al sassuolo Bello Mezzo Ma madonna Come l'ha ripionata Scusa Grazie a chi ma L'ha appiccicato Lo scarpe Ma che porte ha Sto stadio Scusate L'avete viste No non ci fate caso Domenico Berardi Ah Bravo Ah Quadrettono Ma è stona Da bestia Non ci sento Amato Eh no Sono addormentato? Ha bloccato? Però lo do Brigadiere Che fa? Ah l'ha fatto troppo corto Eh l'ho visto scattare Ma certo Ilari Ilarai? Ilari Blasi ha detto Come bocca? Bocca de rosa 50 Ma ci amavano L'amore Questi sono in tre Sono in tre E mi hanno già spaccato Tutti e tre i maroni Che due strofe Sono due però Sì sì Senza bridge Chi è? Eh Peppino Moro Calmati 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 Ho già premuto un tasto Per il contratto Ho legato Tutto sto deficiente Massaggio così così Sei in mano un mitra Inizia a sparare Ragazzi cosa succede? Pro 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 Il rumore del mitra Eh famoso Pro 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 Sicuramente non fa Popi popi pomoro Vado in mezzo Va bene Eh no Mettila Mecchia Zio Ora monzella Mi sto marcando Mi fanno arrabbiare Però io voglio solo Stancarmi Questa sera Allungami la blusa Cari musa Quasi quasi Andiamo per lì Lo scattino da fuori Lo faccio Oh Fonfix Potete in mezzo Ho qui Ho ancora E Parnassius Grazie Parnassius Grazie Parnassius Vabbè chissà Sinistri La fruta italiana Grazie Grazie Parnassius È fantastico Grazie Ferma l'azione L'attacco Degli avvertiti Visto dietro adesso Ah era lì Azzaro Che paura Occhio Eh ma perché ti ho fatto Quello lungo Perché ti ho visto avanti Poi si è tornato indietro Ho fatto una cagata Ma dai Palla giocata sugli esterni Vector Non far finta Di non aver capito Solo perché vuoi usare il conto Grazie Grazie Vale Grazie Vale Ma poi io cosa dovrei capire L'obiettivo mi attende una reazione Da parte loro In ogni caso avranno Altra occasione in futuro Ma non è perso Dai tel kill Ma ora vai più a destra Che ne lasci tre liberi così Che si possono passare la palla Come voglia Che prima sono andato là Che l'ho visto Scattato Non c'eri E dai È in buona posizione La squadra avversaria Riconquista il pallone Peppe Bergomi Sono qui Nagatomo Eh Piz Palla in gioco Ormai avevo premuto Se no la passavo in centro Maduro Bravi Tocco di salto In realtà Non ho inficiato Però vabbè No è che ero convinto Arrivati a te Eh anche io Otti ho schiacciato il tasto del tiro All'ultimo secondo Quindi è venuto un peso Ah Eh no Hai fatto bene Non dovevo entrare in aria Dovevo stare fuori Perché c'era Moroli Che palle Prima che sono passati In quel modo Vicini vicini I ragazzi sono scappate Sì 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 Facendo il C o C Alla fine Queste azioni No Non era per lì Beh Maggio non fosse per l'avversario No ma non era neanche la direzione Neanche la quella Ma dai Non riesco Che arriva il signorino Alfonso Alfonso Ford Moro No Poverino Mi è distratto Moro si prende le ginocchia Che fa quello per terra E alzati Gretino Ma come per loro Hai fatto la cazzata Ma in due piedi è andata lì lo stesso Eh vabbè Ce l'ha ridata Educatamente Ci ha sbattuto il muso Guarda lì Guarda lì Guarda lì Marchio Oh porca puttana Che movimento era quello lì Niente La palla rimane là Ok Ok Ha finito il primo vento 1 a 0 1 a 0 Amici che smacca Dai Sono passati quella volta lì E poi purtroppo No è che stanno facendo azioni solo di cross Che va bene eh Per come stiamo Giocano veramente stretti loro Quindi No in realtà abbiamo fatto anche degli 1-2 Lì al tiro di corvo Cioè stiamo provando Solo che sono molto stretti Ma che in mezzo c'è sempre l'agglomerato di feci Ma io infatti sto andando Cioè io che dovrei andare in mezzo Col più di testa Vedo che c'è casino E rimango fuori Adesso Moro ci pensi tu ti ricrascia Il bot fa doppietta Certo Due pietta Questi sono veramente noiosi Comunque Sì sono d'accordo Cominciano Bene Spaccano le palle Spaccano Cos'era Cos'era sta roba Ma come è possibile Ragazzi Ragazzi Ma com'è possibile Ma cos'è sta roba Ma cos'è sta roba Fifa Ma cos'è Mi prego Buttatevi a sto gioco Tutti Tutti Ma cos'è Ma tu hai premuto il cross o il tiro Cross teso Ma dai ma si potrà Era molto teso No basso Era durissimo Ma gli ho messo il piede davanti Bugia Bravo Mi raccomando E non mi la Bravo Devo andare a sinistra A recuperare subito Provare a penetrare Moro Ma che movimento mi ha fatto Scusate Anziché frenare Ha fatto un'impanicatura Tremenda Questo è un problema Ma se È gol Si è scordato le gas Sono male guarda Poteva giocarsela In 10.000 modi diversi Ma poi girerla dietro Eh scusa Mi ho visto Mario che partiva Però c'erano altre 5 persone Con una maglia simile alla nostra Ma che non era la nostra Esatto Ragazzi che gol era quello lì Ma si può È come Roberto Carlos Quando provò Eravamo tutti convinti Che fosse tipo Calcio d'angolo Poi ho visto Lezzar che faceva Il segno del vecchietto Che cazzo sta facendo Oh Eh lascia sta palla No Ho visto il rigonfiamento Della rete verso l'interno Solo che non ci ho voluto Credere fino all'ultimo Cazzo fosse fuori Se avessi Quello era di testere Oh mio Dio Mi sono persi questo Occhio Giù Ok No 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 Vabbè provi con tutti i contrasti Ci piacciamo noi La cazzuola Solo che ecco la palla che rimbalza Dire il badille Sì Anche avrei provato il pallonetto No più tanto perché tanto sapevo col tiro Non C'è al massimo prendo il calcio d'angolo Proviamo A parte che dopo il gol di Liezer Lo potevo provare Magari la palla Prendeva il pallo La traversa Fuori E poi entrava Guarda il corpo Vado Non più Non più Non più Bello E c'è L'altro Non ho crossato Ma ho fatto Il filtrante alto Bello Interessante Wow C'è la palla Attenzione Per il passaggio Il culo del buco Che abbiamo ragazzi Questa Questa è la partita Dello sfondamento anale Comunque Vantaggio solo sfiorato Determinante La deviazione dei legni Di rischio Che paura Sì No Sono fuori gioco 3-5 Ok Madonna Madonna mia Madonna Tutti avanti Siamo andati a posto Io sono andato a posto in diagonale Ma non me l'aspettavo così Siamo qui Possesso palla per gli avversari Nooo Ma quello che stai comandando di là è un cazzo Mi ha fermato il piede Stop my foot Era un lavoro di piede Un foot job Un po' le ultime team Proprio porno Marco Eh E l'occhio sta nel buco di chi guarda Certo Bocca Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Guarda Marco Guardalo Bravo È giusto È tutto perfetto Adesso il pallone Se lo vuoi fare Che stronzo Guarda la toccata Sì sì Me l'ha toccata Devo farla a defetto in realtà Forse a defetto entrava Che fa? Non c'era ancora il gioco Eh vabbè dai Perché avevano sbagliato gli ha detto dai Quarto solo La prendo? C'ho ancora detto per un attimo La prendo? La prendo Oh E muoviti Qui dobbiamo fare Ma Eh L'avevo preparato prima Il fatto Era un contrasto Ma è tutto ovviamente liquido Tutto liquido È tutto ovviamente liquido Come potrebbe essere diversamente No No Questo non può essere No ragazzi Va bene Va bene Un saluto all'EA Un saluto all'EA Magari un giorno potrai anche No Fare un FIFA decente Abbastanza incredibile Che non abbia preso provvedimenti disciplinari Anche secondo me Questo era un palle Stato leggermente a sinistra Lui Ma ce l'hanno col palo Qua non è più Qua non è più buco Allora Qua non è più buco di culo Qua sono loro che non sanno più tirare Però L'ha preso 18 Lui l'ha preso due volte Lui Lo stesso Praticamente è autopazzata Un po' come quando prendo 18 pali Io Anacerte col tua mia Non è la maledizione Tirate gli calci Tirategli botte E io sto E mano Aiuta Però Aiuta Vai via Ma ho messo il video E' caduto da solo L'avete visto Grazie Era cortissima Era sull'uomo Non pensavo scappate Tutti bobbi ragazzi Vaggia Fallo E vale caro Grazie Sì Vale l'avevamo ringraziata Molto caldosamente O Valerio O Valentino C'è corno C'è Però come corno di merda Tocchetto Bastardo Vado Vado Non l'accordo Se me l'appoggiavi Facevo una Profissata Che figura di merda C'ho provato Non ha preso Una cosa così Ti licenziano Nella vita vera Amici Siamo riusciti A sopravvivere Possiamo vincere il titolo Siamo in promozione Siamo promossi Possiamo vincere il titolo Dai Ultima partita Di questa sera Questa è stata una bella partita Ma per merito Non l'oro Sicuramente Sono delle puttanate Il rigore Se lo sono inventati Un gol nostro Che ma Comunque mi ha detto Viking che droppavano skin Della barca Oggi per Assassin's Creed E domani cambierà il drop Quindi in base Ogni giorno D'altro amici Vi ricordo che giovedì Faccio Yakuza Mi raccomando Tutti sintonizzati Guarda scusi Ti fottò la chiave L'ho già riscattato Lo sto scaricando No cambiali Dai 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 Meno male Sono le stesse di prima Siamo alla stessa mano No No prima avevamo la blu scura Ah loro Ah no no Era Mi raccomando Tutti assolutamente liquidi Siamo un po' alla Lazio Che pigiama Ma perché è sbiadito in fondo Che maglia brutta Ah mi piace in campo però È bella accesa Non ci sono nuvole E neanche liquidi A quanto pare Tutto liquido No Non ero chiuso dietro Potevo facere solo di quelloro È magari alta Però vabbè È uno da solo Ma no sono in due Che palle Non può essere Che palle si vuole giocare in due Ovviamente uno gioca da solo E l'altro con il giocatore Corre un po' di qua Che palle Io ho fatto swish Che trottolino Un pugno questo Siamo alla Lazio A quanto pare Occhio al cross Via 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 Faccio vedere immenso No Marco Non posso Come no? No 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 Ma Ma no ma ce la facevi Poi non ho insistito Perché fai quello che vuoi Però veramente Era easy Ma tanto probabilmente Ti si chiudevano in me Ma no no Ma non funziona così Se fai il filtrante ragazzi No È che una volta che l'hai presa Ti si chiudono in me Ma fai il movimento così A seguire E gli passi la palla Al massimo E mi chiedo aiuto No non me l'aspettavo Tanto è stata buttata via Via Lazione Qua è il lerone Ah Mamma mia Era per Corvo in realtà È una Sinus Trunz È perché me l'ho fermato un attimo prima Probabilmente il bot non l'ha capito È in buona posizione È il lottito dei termosifoni È il presidente della Lazio Io spero di nessuno di noi Anzi ha lottito Aspetta Cosa sia antipatico anche a sua madre È la questione dei tamponi È il casino Dalla Lazio Ma va dentro Tutto contro il microfono Io penso che ai Laziali stessi Sti antipatico all'ottito Cosa è che ha fatto appunto Ma recentemente Sembra ci siano questioni Con i tamponi sbagliati Cose sbagliate Quindi C'è il rischio della Lazio A parte che ha detto una roba Sui tamponi da ignorante Ma vabbè È un'ottima scelta di tempo Aspita Arriva ragazzi Mamma mia Tutti i Laziali che conoscono Lo supportano Ma per forza C'è la corsa preventiva L'Azor Ti stava costando Entra sul pallone E concede la rimessa laterale Ok Cambia game Qualcuno fa il compleanno Sto avvicinando io Dalla tappa Non ha capito il telecronista C'è il collo del mio stadio Cosa ha detto Qualcuno fa il compleanno Sul security guard No ha detto Happy birthday to Sasha Walker Vado di qua Tiralo No perché Forse avevi il dito sul grilletto Per quello Nel momento Ho lasciato il tiro Perché quando è saltato Mi sono rimasto malissimo Vado Magatomo Perché non l'ha fatto alto Io l'ho fatto alto Forse perché ti ero troppo vicino Ha calcolato Ehi 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 Stipano E' lui certo E' certo Sì Pappen 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 Ah ma quello non è l'arbitro Non è male No era troppo tardi Perché ti sei andato Perché era per corn Eh perché l'ho visto partire Era giusto Solo che ha fatto basso No Che poi gliel'ho detto Di farlo basso L'avevo fatto più potente Semplicemente Il passaggio c'era La difesa sembra messa male Attenzione Non buona l'organizzazione difensiva Era il lancio Finché non ti avvicini tanto alla palla E te lo considera In difesa ancora Ti considera i comandi della difesa Pensavo di aver superato la soglia Invece evidentemente no Ho superato la soglia Sto giocando troppo Troppo in centro Ma Che c'ha bisogno Liuk Dobbiamo tenere il pallo un po' Maduro Non adesso Eh ho sbagliato Ha diventato un'occasione pericolosa Sono fatto prendere dal fatto che ero stanco Ho paura di perderla No è come non l'ha preso Ok Moro Moro Eh sto andato Non c'ha un pavosito Non mi va Eh c'ha un pavosito di me Perché da me Crettino Se stavi privati tuoi Tu sei nel mezzo Sei Ma che nel mezzo Ma che nel mezzo Cosa è successo ragazzi Non può rimbalzare Non può rimbalzare con il suo pallone Guarda qua Cazzola Intermetto No Che rischi inutili Che ci prendiamo Eh che effettivamente ci stava il passaggio Ci sono metri a disposizione Ah è finito ragazzi Siamo nella mongolfiera delle palle Come ci si entra? Alla scalinata Beh Che stronzo Sì era veramente un barile di TTT Con la palla di prima Occhio Dieter avvicinati un po' di più a Luke Intervento rubido ma corretto Intervento rubido no Grazie 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 Tacca Grazie Grazie Tacca Perdono il pallone Tiene chiuso Vediamo come se la cava Scusa Di quanto stavo io con una partenza Paro? No Non sono io Ma che Non lo sai Ottimo Ottimo C'era qualcuno della panchina che ti stava antipatico Ha visto proprio l'allenatore Vaffa 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 Botta ragazzi E' andata proprio a scendere questa A scemare Materazzi E' caduto Che è successo? Ma tiene il primo tetto Che fatica ragazzi Che fatica questa vita da bomber Almeno questa vita da boomer Che fatica Tutto vecchio Sì Oh Esepetta Che siamo iniziati Esepetta C'è la seconda frazione Esepetta Vabbè scartati da solo Poi quando ti decidi Faccio Un'imbrecazione in mezzo Ah ma bravo Devi Devi stare calmo Calmo Eh certo Non ti pare mangiare la pizza addosso Ma se Sì 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 Questo era veramente Ci erano veramente Almeno tre o quattro cose Che erano impossibili No ma Il fatto di spingere Come ha fatto mio Quale fallo Non puoi spingere via uno E andare avanti Non di non di Ragazzi Cosa stiamo succedendo Ma che cazzo Ormai la passa Dove cazzo vuole lui Saremo con calma Saremo con calma Ok Eh scusa C'è troppa gente Eh niente Ho provato sei volte Perché ho visto Di nuovo Benchia Qua Eh mi ha Maduro Impestato Hai tipistu Vado Corno No non più Eh dove cacchio Oh Ma merda Ho visto Borromoro là È difficile Fare gol qui Ci ha provato Apprezzare comunque Il tentativo Decisamente meno Il risultato Eh coraggio E la Gersotec Punta su quello Non mi rompere I coglioni Che è successo Perché Lo stadio è Un malo Lo stadio È veramente esploso In rivolta Che cazzo vai Ma no cazzo Ma che cazzo Sei mando cazzo Che cazzo vai A me Divo Suga Albertino DJ Guarda adesso Ho provato Andare a difendere Non mi fa proprio Passare Se c'è troppa gente Non mi fa proprio Arrivare nel punto Palla messa in mezzo Colpo di testa debole Che non impensierisce Il portiere Ma è difficile Segnargli da lì Dai Batteria Batteria All Ah C'è il rilancio Lungo da parte Del portiere Quasi Volevi fargli La foto Quasi Quasi Morto Ah Non mi ha dato Il tocco Vado Vado È un po' troppo distante Guarda Possibilità di contropiede Adesso la tiene Fino a quando Quell'altro Non si è liberato Dai No Che Sei Così Mostragli il capezzale Ma sembra la stessa finta Luke Questo qua Veramente Sempre la stessa Fa C'è lui che la tiene Fino a quando Fa la finta di tiro E poi va avanti Finta di tiro E poi va avanti Sta facendo solo quello Allungati un po' Moro Ci vai più Avanti Ti tiro Quanto sei alto adesso Eh boh Me lo chiedi ogni volta Non mi ricordo Quanto sono alto Sarò cresciuto Un po' Boh Po S Po S No Dicevo Quanto sei alto Per se ti tiri E diventi di più Eh arriverò a 1.90 Se mi tiri Eh sì Fare 1.83 Se non me la salsa La maledizione della punizione Guarda che c'è un giocatore Sta spostando il portiere Ma da me la foto Simon è quando Nel calcio balilla Tonacon Nel calcio balilla Il portiere Rinvia la pallina E tu con l'attaccante Lì Hai definito Quelli la butti in giro La foto Esatto Va bene Sono proprio compatti Sono proprio compatti Al centro campo Si vede che stanno giocando Comunque sia in pochi C'è Prova Beh si intende Si intende Effettivamente Il botte ti tiene Tutti i personaggi In posizione Anticipando un po' Troppo i passaggi E lui E non so come cazzo Ha fatto a calciarla Allo stesso Allora adesso Tira da lì E fa Stessa cosa Che palle Questi qua Guarda Ho ste gambe Sdilabrate Dai E fuori gioco Fuori gioco Luke Conclusione Che non crea problemi Al portiere Punizione cacciata Davvero male Ma che brutta cosa Sembrava la sua mattonella I telefonisti Sono proprio sempre Degli stronzi Ho dei giudizi Ma andassero a giocare loro Guarda Guardo penso Gli viene un infarto Se ci provo Punto Ma non devi Sta dentro Ma doveva essere dentro Sta palla Ma come si fa Scripto Scripto Faccio vedere di qua No Ho fatto un tocco Di troppo La stiamo facendo Difesa che recupera bene Qui E blocca Il contropiede Vai cazzola Schultz Il tocco dentro E beh E beh E beh Che sfigati Però Io non so più No non lo so Boh è strana Sta partita Ma cazzo fanno Non entrare queste Dai E basta E basta Daglielo Corvo Immagino adesso Fare una finta di tiro Guarda Faccio delle palle No 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 Ma glielo ho fatto Di proposito Che se no andavano A segnare Fatto bene Marco Sarei fatto Ispello Guarda Beh più che prenderlo Da dietro Iscivolata Non so cosa fare Che dici che dici Che dici Eh moro Dovevo prendere Che posizione sei poi Incivolata La pecora Conclusione sfortunata Qui dell'attaccato Ma all'82 eso È vero Sì Bucco di troppo Nel c**o Nooo 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 Dobbiamo distribuire meglio Eh guarda lì Eh Di più Arrivo anch'io A fare un calcio Nel lì Di più di più Siamo entrati Negli ultimi 5 minuti Di gara Si aprono spazi Invitanti Che è successo? Non lo so Presumeremo Di nuovo Faccio rivedere Niente Ma dai Ragazzi Ma dai Sassolino limpido Grazie mille Sassolino Vado qua Faccio vedere qui La mette in mezzo Ma che fa Moro? Eh l'ho scopato Una paura Forse di acciaio Ragazzi non vuole entrare Non vuole entrare oggi Si Guarda qua Questi pezzi di merda Fuori gioco Corno Stai attento No non ero Fuori gioco Vado Massimo decimo Pericolo Non c'è modo Di segnare Questi Non c'è modo Ah Sono proprio dei figli androcchia Voglio altri due minuti di recupero Vado qua in mezzo Molto vicino al rosso Ma certo Siamo tornati all'anno scorso Ragazzi Anche di testa Non cambia la cosa Non è cazzabile proprio Guarda Assurdo Assurdo Che storia Che storia Non so come voleva andare questa chioppa Ci abbiamo provato amici Abbiamo fallito Usciamo Però 3 su 4 L'abbiamo vinto No No 2 su 4 2 su 4 La prima l'abbiamo persa malamente No malamente no Però Eh No No Ci siamo fatti Ci siamo fatti Almeno adesso stiamo Stiamo giocando Almeno adesso L'abbiamo giocato bene tutte Infatti Per esempio Adesso Ragazzi Vado a letto Buonanotte Abbiamo trovato le posizioni giuste Abbiamo trovato una bella quadra Per carità Non so se mi piace di più Questa versione O quella con il C.O.C. Proprio Come siamo messe Mi piace Oh sì dai Amici dai Anche oggi È andata così Quindi Grazie A domani con Abbiamo detto Apex E si spera a fare i guys alla sera Esattamente Ciao Ciao bellezze Ciao Grazie a Gepard Grazie a Gepard Il stelo di Carmelo Lo capiscono L'artiglio che graffia